Si susseguono ad ogni ora, su ogni strada, coinvolgono automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni e sono più o meno gravi. Sono gli incidenti stradali che quotidianamente impegnano 118 e forze dell'ordine e che hanno un altissimo costo non solo in termini di vite umane di feriti, ma anche sociale, pari a 16,9 miliardi di euro per l'Italia, 2,9 a livello lombardo, 356 milioni all'anno di costi sociali per incidenti stradali in provincia di Brescia. Costi che si riferiscono agli oneri che gravano sulla collettività a seguito delle conseguenze causate da un incidente stradale, come ad esempio le spese sanitarie pari a 48 milioni nel 2019, ad esempio nel bilancio di Regione Lombardia. Dalla ricerca emerge che il giorno della settimana a cui si associa una frequenza più elevata di ingressi al pronto soccorso a caso di un'incidenza stradale è lunedì con più di 14.500 ingressi in Lombardia nel 2019, rispetto a un valore medio giornaliero nei altri giorni della settimana di meno di 14.000 ingressi. Il numero di accessi in pronto soccorso è stato di quasi 100.000 persone, di cui più di 6.000 ricoverate nel 2019 in Lombardia e il costo di ricovero medio è pari a 5.290 euro per ogni persona ricoverata per un incidente stradale. Si tratta di risorse che potrebbero essere ridotte sensibilmente nel caso di incidenti stradali dovuti a comportamenti imprudenti e scorretti alla guida. I dati della polizia stradale anche in provincia di Brescia evidenziano come siano l'alta velocità e l'uso del cellulare alla guida le due principali cause di incidenti, tra le spese sanitarie legate agli incidenti, quelle legate al soccorso, come ad esempio l'uscita delle ambulanze, sempre più richiesta, soprattutto nelle zone più impervie o lontane, che accorcia i viaggi verso l'ospedale, permette un soccorso più tempestivo ma anche più costoso. Gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale a livello internazionale sono ambiziosi e prevedono il dimezzamento delle vittime e quello dei feriti gravi. Per la Lombardia significa dover ridurre i decessi di circa 200 unità e i feriti di alcune migliaia.